Musica Allora Carabina, mi riprendi ancora con te dopo 60 anni? Devo dire sì, 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 ci siamo sposate per amore. Che devo dire ancora? Ho girato mezzo paese con una macchina aperta per andare in chiesa. Ma io andavo in villeggiatura in Sicilia, avevo degli amici e mi divertivo andarli a trovare. Trovo gli amici e ho trovato anche lei. Sì, è cominciato, ci siamo andati in città, in campagna, in moto, con la moto. Ricordo che io allora ho suonato con la fisarmonica. Sì, e questo ricordo poi, e poi è continuata la storia. Era un bel ragazzo, intelligente, e poi era molto romantico. L'abbiamo rimandato nella riunione di tutti i figli, quando sono tutti disponibili. Altrimenti che facciamo da soli? Capisci? Quando ci riuniamo tutti i figli, ogni giorno un'avventura. Ma li abbiamo sempre affrontati e superati, il bene e il male. Ci vuole pazienza, tanto amore. Se l'amore finisce, finisce tutto. È un peggio che è buono, è un difetto, qualcun'altro mi dice qualche bugia. Parlò un poco io. Lei vorrebbe che io mi sederei. Vedi, ci sono due sedie fuori al balcone là. Ragionassimo e parlassimo, ma io non so fatto per il dialogo troppo a lungo. Vado breve, fino a oggi. Non vedo che cosa posso dire di male. E la ringrazio per quello che ha fatto per me. Che le devo dire? Sei contentato di poco. Non è vero questo bugiarello, non è vero. E beh, bisogna scherzare pure. 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 Grazie a tutti.